Ti faccio un esempio, il bicchiere si può vedere mezzo pieno o mezzo vuoto. Lei non si è mai domandata, per esempio, in questo momento, se ci fosse stato un allenatore un pochino meno esperto, che magari lo spogliatoio si sarebbe davvero sgretolato del tutto, e magari già a questo punto, come è successo a tanti club importanti, storici, in un momento dove ha dovuto ridurre l'economia, eccetera, eccetera, transizione, nuovo proprietario, che magari potevi lottare anche per i posti più bassi, che inisca un meccanismo come, spero che noi in queste cinque partite ultime l'abbiamo un po' palpato, e spero di far presto, e vedere anche, per esempio, che in questi momenti i giocatori si affidano all'allenatore e sono convinti, e magari con altri allenatori avrebbero cominciato a loro stessi a non crederci più. Tutta una serie di cose, no? Che a livello di punti, in questo momento, si può dire tutto e niente, però si può dire anche il contrario, perché ne abbiamo visti i club in quest'annate, molti, un pochino fino ad ora, si è visto anche qui vicino a casa, per ora cosa era successo, da una squadra che era partita, che l'anno scorso è arrivata terza, ha fatto tanta fatica quest'anno, pensando che dopo che sei arrivato terzo non hai cambiato quasi nessuno e ci ha aggiunto qualche giocatore importante, partire come è partita. Poi l'avete visto con i meccanismi, ecco, ogni tanto pensate al bicchiere, non solo mezzo pieno, mezzo vuoto, potrebbe essere già questa una risposta. Poi, chiaro, come ho detto prima, fate finire l'annata, finiamo l'annata, a questa domanda sarò più preciso a dire anch'io se quest'anno posso essere stato, come dice lei, non è che l'ho detto io, il valore aggiunto lo diano gli altri, io non mi ho detto, che poi magari alla fine si potrà valutare che sta andando anche in un altro modo, da, ripeto, momenti negativi di risultati, comunque sì, anche a club dove hanno speso 100 milioni, ho roba varia, sono nel mercato dove il tetto ingaggio è aumentato di tantissimo, momenti difficili durante l'annata, capito, vedo anche da altre parti, non solo a noi, noi un pochino di più, perché potrebbe essere che ci sono anche tante altre variabili che gli altri club non hanno. E quindi, date il tempo anche a chi, magari il passato mio, ha detto che io fino ad ora sono stato sempre un valore aggiunto, non è che l'hanno detto per così, perché ci sono numeri, per dieci anni consecutivi ha fatto questo, e se no anche un club come questo, un presidente importante, e poi Moratti, dopo come era finita l'annata, si poteva affidare anche a un altro, magari che aveva fatto solo, magari si parlava bene di un allenatore, ma aveva fatto, che ne so, come avevo fatto io fino a due o tre anni prima del Napoli, la Regina, la Sampdoria, un'altra scommessa, quando si prende un allenatore che ha una storia alle spalle, gli si dà anche un pochino più tempo, un po' più fiducia, proprio perché nel frattempo si valuta come rispondono i giocatori, ma non solo sul campo, come rispondono anche nell'ambiente, cosa dicono, quando per esempio parli con loro, ti possono dire, meno male che c'è lei, se no qui poteva essere ancora peggio, eccetera, eccetera, giocatori che hanno avuto tantissimi allenatori, è questo che il presidente, penso, una società si basi, quando da fiducia totale è o meno un allenatore, perché valuta tutti gli aspetti, non solo quelli del campo e del risultato immediato.